La fiera di Sora è servita, in tavola, tanta cucina, un intero padiglione destinato alla gastronomia, ai prodotti tipici locali, soprattutto ai prodotti che vanno in tavola ma che sono di alta qualità. L'attrazione principale di questo primo fine settimana di fiera campionaria generale a Sora nell'edizione 2013 è lo chef di fama internazionale Fabio Campoli con il suo cooking show per insegnare i segreti dell'alta cucina. Il primo? In cucina non si va mai di fretta. Assolutamente non si va di fretta perché ci vogliono le attenzioni e questa è un'occasione per avere attenzione. Fabio Campoli ha la fiera di Sora non solo per insegnare ma anche per arricchire la sua personale enciclopedia di sapori con i nuovi prodotti, proprio quelli in esposizione per la prima volta a Sora. Il mio compito è quello di veramente raccogliere e conoscere, per me è una doppia esperienza quella di promuovere e condividere con chi sta venendo la fiera e quella personale di raccogliere i sapori. Io la chiamo la biblioteca culinaria, la mia biblioteca oggi si sta ampliando e accolgo queste informazioni e le passo ai nostri visitatori. Fiera di Sora Campionaria Generale 2013 all'insegna del territorio, della valorizzazione delle tipicità insomma. Quest'anno abbiamo voluto impostare una fiera all'insegna anche della gastronomia, gastronomia, vini tipici locali, il marchio di Atina Cabernet e anche del Cesanese del Piglio, più tutti i prodotti tipici locali. Non solo locale, Campionaria Generale vuole caratterizzarsi per le novità e così dalla Germania arrivano specchi ed interni d'arredo in anteprima per il mercato italiano. Ci sono delle rassegne veramente molto nuove, certo sul mobile abbiamo sempre puntato in maniera determinante, non è il primo anno, quest'anno comunque ci sono delle novità maggiori rispetto allo scorso anno. Ma la vera novità in particolare è che l'ingresso adesso è gratis. La settimana fino al sabato è sempre gratis, si paga solo alla domenica 4 euro.